Hashtag Libriamoci, hashtag Gianserio Strapella Polo 1 Copertino Salve a tutti, oggi volevo presentarvi il libro di Biancaneve, che è un libro che ho da quando ero piccola ed è un racconto dei fratelli Grimm, illustrato da Francesca Rossi. La frase che mi ha colpito di più si trova sul retro del libro e dice E nacque una bambina dei capelli neri come l'ebano, le labbre rosse come il sangue e la pelle bianca come la neve, che chiamarono Biancaneve. Come si può notare dalla copertina, ci sono molte illustrazioni carine, ad esempio queste. Vi invito a leggerlo perché è molto bello e inoltre leggendosi possono imparare tante cose.